A Campobasso si aspettano da un mese esatto le novità ufficiali da parte di Agnello Aliberti che lascia solo intuire qualcosa, ma nulla che abbia il crisma di notizia definitiva. L'allenatore è stato scelto ma non ancora annunciato. Dovrebbe essere il 51enne salernitano Raffaele Novelli, uno che di panchine di Serie D ne ha vissute davvero poche. Se si scorre la carriera di Novelli si nota chiaramente una lunga militanza nei campionati di Lega Pro con Salernitana, Barletta, Foggia, Propatria, Sorrento e ultima esperienza in ordine di tempo ad Aversa sempre in Lega Pro nella stagione 14-15. Si interverrà ma non pesantemente sull'organico che ha chiuso terzo in campionato non più di due mesi fa. Candidati Serie alla riconferma sono Gattari, Lanzillotta, Rinaldi, Todino ed Alessandro. Tra i senior da tenere in debita considerazione la schiera di Under che più si sono fatti apprezzare come Grillo di Pasquale e Rao e aggregare decisamente i pezzi forti della Juniors di Rienzo. Aliberti dovrà annunciare anche altri collaboratori che faranno parte del suo staff. Inoltre si avvarrà della preziosa consulenza di dirigenti che lo hanno accompagnato nei suoi anni ai vertici della Salernitana come Giuseppe Cannella che sarà uno dei consulenti di mercato del Campobasso edizione 16-17. Lo stesso Aliberti ieri è stato nel capoluogo molisano per fare il punto della situazione con i suoi collaboratori campobassani. Ad Isernia la situazione sembra aver avuto un peggioramento nelle ultime ore. La tanto attesa sponsorizzazione proveniente da Roma è sparita nel giro di poche ore a causa di alcune piccole incomprensioni con la dirigenza dell'Isernia. Intanto piove sul bagnato per la società Pentra. Le vertenze continuano ad arrivare al ritmo insostenibile e fare fronte a questa serie di pendenze che crescono con il passare dei giorni diventa davvero impresa complicata. Ad oggi l'Isernia dovrebbe sopportare un debito pregresso vicino ai 30.000 euro oltre alle incombenze vive che una domanda di ripescaggio in serie di comporterebbe, vedi, iscrizione e fideiussione. Insomma la situazione attuale non è delle più rosee. Anche l'ipotesi di domandare il ripescaggio in quarta serie si fa un'ipotesi ai limiti della realtà. I soci dovranno riaggiornarsi nel giro di qualche giorno. Ad oggi l'Isernia ha il diritto di iscriversi nel campionato regionale di eccellenza ma non si esclude che con un colpo di coda improvviso e dettato anche da un certo sconforto lo Stato Maggiore Bianco Celeste decida di porre il titolo nelle mani del primo cittadino neoeletto Giacomo D'Apollonio ovviamente quest'ultima è una possibilità che ci sentiamo di scongiurare.